Un amore segreto. L'inizio. Cesare Cremonini, Giorgia Cardinaletti. Due nomi che risuonano forti nel panorama italiano. Due personalità che hanno conquistato il cuore di milioni di persone. Ma cosa succede quando due stelle così brillanti si incontrano? Due stelle italiane, legate da una storia d'amore avvolta nel mistero. Una storia che ha catturato l'immaginazione di molti, ma che pochi conoscono veramente. Lui, il cantante e cantautore carismatico, noto per i suoi testi sentiti e la presenza scenica accattivante. Un artista che ha saputo trasformare le sue emozioni in musica, toccando le corde del cuore di chi lo ascolta. Lei, l'elegante giornalista e conduttrice del TG1, che conquista i telespettatori con la sua intelligenza e il suo apportamento. Una donna di grande talento e professionalità, capace di raccontare le storie del mondo con una grazia ineguagliabile. I loro mondi, apparentemente distanti, si sono scontrati in una storia d'amore travolgente, tenuta nascosta agli occhi indiscreti del pubblico. Quando è iniziato tutto? Forse durante un evento mondano? O magari in un incontro casuale che ha cambiato il corso delle loro vite? Come si sono incrociati i loro cammini? È stato il destino a farli incontrare? O una serie di coincidenze che li ha portati l'uno verso l'altra? I dettagli rimangono un mistero, custodito gelosamente dalla coppia e dalla loro cerchia ristretta. Un segreto che ha alimentato la curiosità di molti, ma che nessuno è riuscito a svelare completamente. Cesare, noto per la sua discrizione quando si tratta della sua vita privata, non ha mai confermato la relazione. Un uomo che preferisce lasciare che sia la sua musica a parlare per lui, mantenendo un velo di mistero sulla sua vita personale. Giorgia, altrettanto riservata, ha fatto lo stesso. Una giornalista che sa come mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori, proteggendo ciò che ne è più caro. Eppure, le voci della loro storia d'amore hanno iniziato a circolare sui media italiani, alimentate da sguardi rubati e incontri segreti. Ogni piccolo gesto, ogni sguardo, è stato analizzato e interpretato, cercando di trovare una conferma di ciò che tutti sospettavano. Le indiscrezioni si sono riusi a macchia d'olio, accendendo la curiosità dei mani della stampa. Ogni nuova foto, ogni nuovo avvistamento, ha alimentato il fuoco della speculazione, creando un vortice di attenzione attorno alla coppia. Era solo una cotta passeggera o c'era qualcosa di più profondo? Una domanda che ha tenuto tutti con il piatto sospeso, in attesa di una risposta che sembrava non arrivare mai. Con il passare del tempo, le voci si sono fatte più forti, alimentate da sottili indizi e coincidenze troppo forti per essere ignorate. Ogni nuovo dettaglio sembrava confermare ciò che tutti speravano. Che tra Cesare e Giorgia ci fosse un amore vero e profondo. L'amore, a quanto per me, era nell'aria, anche se tenuto a porte chiuse. Un amore che, nonostante riusciva a farsi sentire, a farsi vedere, anche se solo attraverso piccoli gesti e sguardi rubati. Il pubblico, desideroso di dare uno sguardo al loro mondo privato, ha trattato il respiro, aspettando un segno, una confezione, qualsiasi cosa che facesse luce su questa misteriosa storia d'amore. E così, la storia di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, continua a vivere, avvolta nel mistero e nell'incanto, alimentando i sogni e le speranze di chi crede ancora nell'amore vero. In ogni relazione, il rispetto e la discrezione giocano un ruolo fondamentale. Questi due elementi sono le pietre angolari su cui si costruisce una connessione duratura e significativa. Cesare e Giorgia, come molte coppie, lo sanno bene. La loro storia è un esempio lampante di come il rispetto reciproco e la discrezione possano fare la differenza. Hanno sempre mantenuto un certo riservo, valorizzando i loro momenti personali lontano dagli occhi del pubblico. Questo atteggiamento ha permesso loro di costruire una relazione solida e autentica. È questo rispetto reciproco e questa comprensione che hanno rafforzato il loro legame nel tempo. Ogni gesto, ogni parola, è intriso di una profonda considerazione per l'altro. Il rispetto non è solo ammirazione. Significa riconoscere l'individualità dell'altro e dare spazio quando necessario. È un atto di amore e di fiducia che permette a ciascuno di crescere e fiorire. E la discrezione? Significa sapere quali momenti condividere e quali mantenere sacri. È la capacità di proteggere la propria intimità, di custodire quei momenti preziosi che appartengono solo a loro. Questo equilibrio è stato la chiave della loro duratura unione ed è qualcosa da cui tutti possiamo imparare. La loro storia ci insegna che il rispetto e la discrezione non sono solo valori, ma veri e propri pilastri di una relazione felice e duratura. Dopo la fine della loro relazione, Cesare e Giorgia hanno intrapreso i loro percorsi personali. Hanno affrontato sfide, colto nuove opportunità e sono cresciuti individualmente. La vita dopo l'amore, come hanno scoperto, è un percorso di scoperta di sé e di resilienza. La storia di Cesare e Giorgia ci insegna che anche quando l'amore non dura per sempre, le esperienze e i ricordi rimangono preziosi. Ci ricordano che va bene custodire il passato mentre si guarda avanti. Il loro percorso sottolinea l'importanza della crescita, dell'accettazione e della forza di guardare al futuro. Cesare ha continuato ad affascinare il pubblico con la sua musica, riversando il suo cuore nelle sue canzoni. Giorgia, invece, ha portato avanti la sua passione per il giornalismo, raccontando storie importanti. Entrambi hanno aperto nuovi capitoli nelle loro vite, trovando ciascuno la propria realizzazione nei rispettivi percorsi. Alla fine la storia di Cesare e Giorgia ci ricorda che la vita è una serie di capitoli. Alcuni sono pieni d'amore, altri di insegnamenti. Ogni momento, ogni esperienza, ci forma e ci trasforma. E anche se non tutti i capitoli hanno un lieto fine, ci insegnano qualcosa di prezioso. Ognuno di essi contribuisce al mosaico di ciò che siamo, aggiungendo colore e profondità alla nostra storia personale. Ci dimostrano che va bene andare avanti, che è possibile crescere e migliorare, trovare nuovi inizi e abbracciare il futuro con speranza, sapendo che ogni fine è solo un nuovo inizio mascherato.